La mostra oltre la lattina, partendo da una collezione di 6.000 pezzi della collezione Guatelli, lattine d'epoca che raccontano la storia dell'Italia, quindi il periodo dell'immigrazione. Partiamo dalla lattina e con due artisti vediamo le loro opere, ispirate mio padre dal materiale Riccardo Guatelli, quindi il materiale che ha sempre lavorato lui producendo lattine, per cui la banda stagnata, e elecheramos dalle immagini d'epoca delle donne, immagini scritte delle vecchie lattine d'epoca. Questa mostra fa capire che l'olio va al di là, al di là dell'espressione, ci sono diverse espressioni artistiche e l'uso primario di una lattina, un materiale che una volta si usava solo come contenitore, adesso acquisisce dei valori diversi. Di quante lattine stiamo parlando? Quante sono quelle che in generale sono state realizzate e quelle che sono esposte? La collezione, come ho detto, è di 6.000 pezzi di quelle antiche. Ora nell'esposizione ci sono 20 opere di mio padre e 4 opere di Elecheramos.